Riqualificata la palestra scolastica dell'istituto comprensivo Montessori, plesso Angeli della città, terzo municipio. Nuova pavimentazione, nuove attrezzature sportive. Restituito agli studenti un luogo sicuro e funzionale alle loro esigenze. Riaperto al pubblico il roseto comunale ai piedi dell'Aventino. Ospita oltre mille varietà di rose, esemplari provenienti da tutto il mondo. Visite tutti i giorni fino al 13 giugno, dalle 8.30 alle 19.30. Roma ospita il torneo UEFA Euro 2020, campionato europeo di calcio. L'11 giugno lo stadio olimpico ospiterà la gara inaugurale. La Coppa è arrivata nella capitale per il Trophy Tour. Nuova illuminazione a largo scapoli nella periferia est della città. Un lavoro fatto con il Consorzio Villaggio Prenestino, Areti e gli uffici di Roma Capitale. Un intervento necessario per riportare sicurezza nel quartiere. Riaperto al pubblico il sistema dei musei civici della capitale. Oltre ai musei sarà possibile tornare a visitare anche le aree archeologiche. Info e aggiornamenti su museiincomuneroma.it e culture.roma.it Inaugurato il secondo co-housing di Roma Capitale per neomaggiorenni a nord della città. Un nuovo servizio realizzato in collaborazione con l'Aspasilo Savoia per i ragazzi in uscita dalle case famiglia. L'obiettivo è sostenere i giovani nel raggiungimento dell'autonomia sociale, lavorativa e abitativa.